parecchi viaggi, siamo stati in America, siamo stati in Francia settimana scorsa ha un piccolo dolorino, ha un tendine, quindi diciamo la stiamo un pochino risparmiando oggi però anche lei sta studiando il doppio avvitamento, quindi questo è il nostro potenziale se non riuscissimo ad avere due o tre ginnaste con un doppio avvitamento saremmo veramente felici tra l'altro è l'atleta che prima ha presentato un bellissimo salto, due avvitamenti e mezzo salto che stavamo parlando proprio prima poi anche nel baltato atteso con mezzo giro di ottima fattura, quindi proprio una grande qualità l'importante per noi è fare passi commisurati alle nostre possibilità, questo è importante anche Vanessa sta riprendendo diversi elementi